Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In FIPLì rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina Firenze in via Senese all'altezza dei civici 93 e 95, fino all'8 giugno è previsto un restringimento di carreggiata con divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,80 m. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!